Cosa pensa Giovanni Galeone di questo nuovo Pescara? Non lo so, ho seguito poco l'anno scorso e penso che l'anno scorso abbia perso una grande opportunità per poter andare in Serie A, soprattutto dopo il pareggio a Verona. Aveva fatto un ottimo campionato, però probabilmente nella partita in casa col Verona qualcosa è stato sbagliato. Diciamocelo così, senza mezzi termini. E ha perso una grandissima, veramente una grandissima occasione, occasioni che capitano poche volte, perché quando si va direttamente su è un caso, è un fatto. Quando bisogna fare i play-off è un po' un circo, tutti si aspettavano il Perugia. Era il Cittadella che giocava molto bene, che era andato a vincere addirittura 4-0, 4-0, 3-0, non so, con risultati eclatanti, che aveva sconfitto il Verona stesso in casa, una delle ultime partite, una delle prime del nuovo allenatore del Verona. Per cui quando si arriva ai play-off può succedere di tutto. Ripeto, secondo me è una grandissima occasione, che non so, mi auguro che si possa ripetere quest'anno, se non addirittura andare su direttamente. Però la vedo più dura quest'anno che non l'anno scorso. Giovanni Galeone ha poi parlato dei tifosi biancazzurri e del rapporto con il presidente Daniele Sebastiani. Ascoltiamo. Io sono sempre con i tifosi perché la Curva Nord è quella che un po' mi ha creato. Io amo quella curva. Vorrei vedere di nuovo lo stesso spirito che hanno messo quando io facevo l'allenatore, anche con altri allenatori che sono stati qui. Io mi ricordo benissimo quella curva. Quella curva quando ti trascina, ti porta alla vittoria. C'è la canzone, no? Dalla spalzata inizia l'avventura, 30.000, 40.000 saremo a tifare. Ecco, quella canzone lì la devono cantare, devono trascinare la squadra, non possono contestare immediatamente. In fin dei conti il presidente Sebastiani credo che abbia fatto due, tre promozioni, con Oddo, con Zeman, se non sbaglio, quindi due sicure. E altre volte, altre paio di volte è andata ai play-off, no? Quindi non si può contestare un presidente che ha questi tipi di risultati. Chiaramente lui è un tipo un po' particolare che non si fa molto amare, diciamo, dal pubblico, soprattutto dalla parte della curva nord, no? Che è quella però che, a mio avviso, è quella che può dare qualcosa in più per ottenere determinati risultati. Grazie. Grazie. Grazie.